Il motivo, cioè Airbnb nasce con l'idea di tenere tre quarti dei ricavi di affitti turistici, parlo dei ricavi delle piantiforme, sul territorio. Airbnb, quello che prende, prendeselo proprio da casa, così come gli altri. Anche questo è un effetto di impoverimento che c'è. Noi vogliamo dimostrare che una cooperativa, che per definizione non è esattamente la classica società che poi scala in borsa, che non può nemmeno andarci, che è capitale, è il lavoro, si può gestire un'attività del genere con un'attività che però è, non sono la parola,